L'avanzata del progresso tecnologico ha segnato una rivoluzione anche nel mondo delle mountain bike. La mountain bike tradizionale, apprezzata per la sua capacità di avventurarsi su percorsi tortuosi ed accidentati, si è trasformata, grazie all'elettronica, in un'esperienza di guida più intuitiva, performante e personalizzabile. In questo video scopriremo i componenti chiave che hanno cambiato la disciplina della mountain bike e dove l'innovazione potrebbe portarci nei prossimi anni. Prima di proseguire vorrei chiedervi di registrarvi al canale. A voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di proporvi contenuti sempre più interessanti. Il stato di qualità più riconosciuto nelle mountain bike moderne è stato compiuto con l'introduzione delle trasmissioni elettroniche. Pionieri in questo campo, marchi di prestigio come SRAM e Shimano hanno sviluppato e messo in commercio sistemi di cambio senza fidi che stanno ridefinendo il modo in cui i ciclisti interagiscono con la propria bicicletta. Queste trasmissioni elettroniche offrono una serie di vantaggi rispetto ai sistemi meccanici tradizionali. Innanzitutto il cambio di marcia è diventato notevolmente più rapido e preciso. Con la semplice pressione di un pulsante il ciclista è in grado di cambiare marcia in modo quasi istantaneo. Anche i livelli di attrito meccanico sono stati drasticamente ridotti. Le tradizionali trasmissioni meccaniche richiedevano il movimento di cavi in tensione che potevano entrare in attrito con le guaine e usurarsi, portando a cambi di marcia meno fluide e a una manutenzione più frequente. I sistemi elettronici in assenza di cavi minimizzano questo problema e la riduzione della complessità meccanica si traduce in una manutenzione più semplice. Senza cavi da regolare o sostituire e con meno componenti soggetti a usura diretta, i ciclisti possono godere di una maggiore affidabilità e di intervalli di manutenzione più lunghi. Ulteriori vantaggi includono la possibilità di personalizzare il comportamento del cambio tramite software attraverso semplici aggiornamenti del firmware. L'attuale campione olimpico di cross country Tom Pitcock ha vinto la competizione grazie a una bici che utilizzava forcella e sospensione comandate da una centralina elettronica, dove il blocco ed il rilascio veniva governato automaticamente senza alcun manettino al manubrio. Le sospensioni elettroniche negli ultimi anni hanno visto un significativo sviluppo tecnologico con l'introduzione di sistemi di telemetria e autoregolazione, permettendo al sistema di sospensioni di adattarsi autonomamente in base ai dati raccolti. Ad esempio, se un ciclista sta percorrendo una discesa accidentata, le sospensioni possono automaticamente regolarsi per essere più morbide, assumendo meglio gli urti e aumentando il comfort. Inversamente, su un terreno più liscio o durante una salita, le sospensioni possono irrigidirsi per migliorare l'efficienza della pedalata. Marchi come Fox e RockShox sono stati pionieri nell'integrare queste tecnologie elettroniche né nelle loro offerte di sospensioni di alta gamma. Prodotti come il sistema Fox Live Valve e il RockShox Flight Attendant utilizzano algoritmi avanzati per interpretare i dati dei sensori e regolare automaticamente le sospensioni in millisecondi. Tutto ciò rende la bicicletta più intuitiva e reattiva alle esigenze del ciclista. Certo, l'integrazione di tale tecnologia comporta un costo aggiuntivo e può richiedere una manutenzione più specifica. Inoltre, la dipendenza delle batterie e l'elettronica incorporata può rappresentare un punto di debolezza per alcune situazioni o preferenze dei ciclisti. Le tecnologie di frenata per biciclette hanno subito notevoli progressi negli ultimi anni, con l'elettronica che sta giocando un ruolo sempre più centrale nell'evoluzione dei componenti critici come i freni. I tradizionali sistemi di frenatura stanno venendo affiancati da soluzioni basate su tecnologie ABS, Anti-Lock Braking System. Il sistema ABS è progettato per prevenire il bloccaggio delle ruote durante la frenata intensa, soprattutto su terreni scivolosi o irregolari. Questo significa che consente ai ciclisti di mantenere un maggior controllo sulla bicicletta riducendo il rischio di scivolate o cadute. E per ultimo troviamo i motori per i mountain bike che hanno visto una crescita esponenziale negli ultimi anni. I motori sono sempre più efficienti ed eco-compatibili. Vengono utilizzati sia per ampliare l'accesso alle persone di ogni età e condizione fisica, sia per spingere i rider esperti a superare nuovi limiti. Se siete interessati all'argomento, in descrizione troverete un video dove metto confronto 18 motori diversi. Ed ora diamo uno sguardo al futuro. Ho una personale visione su dove ulteriori sviluppi potrebbero essere apportati e su quello che potrebbe accadere in futuro. Perché a mio parere siamo solo all'inizio di un'epoca. Nel 2019 SRAM introduceva la trasmissione elettronica X-S1 Eagle AXS ed il reggisella telescopico Reverb AXS. Il successo è stato enorme e SRAM sta attualmente dominando la scena con la sua gamma di trasmissioni elettroniche che coprono diverse fasce di prezze e prestazioni, stabilendo uno standard di riferimento. Shimano invece latita da troppo tempo quanto a innovazione nel settore cross country, quindi mi aspetto che a breve ci sia un lancio imminente di un innovativo cambio elettronico per cross country. Gli appassionati di mountain bike attendono con trepidazione l'arrivo di questa novità, speculando su come potrebbe ridefinire l'esperienza di guida. Il livello delle aspettative è molto alto e ci si aspetta che il sistema non solo è uguali le soluzioni SRAM, ma che le superi in quanto a connettività e integrazione, offrendo allo stesso tempo un prodotto robusto, sofisticato e che offra cambi di marcia full mini ed ottimizzati. Con la competizione che si accende tra questi due colossi del ciclismo, la vera vincitrice sarà la comunità dei biker, che potrà godere di una tecnologia sempre più avanzata e di esperienze di guida sempre più emozionanti e immersive. Un altro sviluppo che a mio parere prima o poi potrebbe essere introdotto sarà quello di poter variare l'inclinazione della sella tramite comando remoto. Attualmente esistono già reggi sella telescopici che permettono di abbassare e inalzare la sella tramite un comando remoto sul manubrio. La possibilità di variare anche l'angolo della sella non sembrerebbe una soluzione così lontana o impossibile da realizzare. Ciò potrebbe offrire diversi benefici ai ciclisti, ad esempio abbassare leggermente la punta della sella durante le salite potrebbe migliorare le prestazioni, consentendo una migliore trasmissione della potenza alle pedivelle. D'altra parte, durante le discese, alzare leggermente la punta della sella potrebbe agegurare la postura del ciclista quando si è seduti sulla sella, offrendo maggiore controllo e stabilità sulla bici. Il futuro dell'elettronica nelle mountain bike sarà sempre più connesso. Nel breve termine vedremo una spinta verso l'integrazione di dispositivi smart e applicazioni che renderanno possibile tracciare le prestazioni e migliorare l'esperienza di guida. Una delle principali evoluzioni sarà l'utilizzo di sensori integrati nelle bici, che raccoglieranno dati in tempo reale sulla velocità, l'accelerazione, l'andatura del ciclista e altre metriche legate alle prestazioni. Questi dati saranno poi inviati a un'applicazione dedicata che elaborerà le informazioni e fornirà feedback e suggerimenti al ciclista. Con l'avanzare delle tecnologie si potrà avere una comunicazione diretta tra i vari componenti della bici. Ad esempio, potrebbe essere possibile regolare la pressione degli pneumatici automaticamente in relazione al tipo di terreno che si sta percorrendo con un sistema di gonfiaggio o sgonfiaggio automatizzato. I sistemi GPS sono sempre più avanzati e in futuro prevedo che questi sistemi integreranno anche luci di segnalazione, così come avviene oggi con alcuni smartwatch. I display OLED porteranno una qualità di immagine sempre più luminosa e nitida anche in ambienti con elevata luminosità. In secondo luogo, ci saranno maggiori integrazioni tra dispositivi GPS e smartwatch agevolando l'uso di feedback tattile ed offrendo la possibilità di ricevere avvisi o notifiche senza dover guardare il display. L'obiettivo sarà quello di permettere ai ciclisti di rimanere concentrati sul percorso senza distrazioni e di avere accesso alle informazioni necessarie in modo intuitivo e sicuro. Tornando a HeliBike, gli sviluppi nelle tecnologie delle batterie rappresentano una grande opportunità per il futuro di questo tipo di biciclette. L'obiettivo principale sarà quello di migliorare l'efficienza energetica. Le batterie a litio ION, attualmente utilizzate nelle biciclette elettriche, stanno diventando sempre più leggere, piccole e più efficienti. Inoltre ci sono sviluppi in corso nel settore delle batterie a stato solido che possono offrire ancora maggiore autonomia e un tempo di ricarica più rapido rispetto a queste batterie. Queste nuove tecnologie delle batterie potrebbero consentire ai ciclisti di affrontare distanze più lunghe senza doversi preoccupare di rimanere senza energia. E per ultimo, un altro sviluppo interessante nel campo delle mountain bike potrebbe essere l'introduzione di freni elettronici. Esistono già delle soluzioni, ma la tecnologia va migliorata ed alleggerita. Questa tecnologia potrebbe eliminare la necessità di guaine e olio tra la leva del freno e di pistoncini, sostituendoli con pistoncini idraulici azionati da dispositivi elettronici. Uno dei principali ostacoli sarebbe quello di fornire una frenata parzializzata e non brusca. I freni idraulici tradizionali forniscono un controllo avanzato sulla modulazione della frenata, consentendo ai ciclisti di regolare l'intensità in base alla situazione. Implementare questa modulabilità con freni elettronici richiederebbe un'ottima sincronizzazione tra il dispositivo elettronico e i pistoncini idraulici. Inoltre sarebbe necessario garantire la sicurezza dei freni elettronici in vari scenari e condizioni. La mancanza di una connessione diretta tra la leva del freno e i pistoncini potrebbe sollevare preoccupazioni riguardo alla possibilità di guasti elettronici o malfunzionamenti che potrebbero compromettere la frenata in modo significativo. Nonostante queste sfide, è possibile che con ulteriori progressi nella tecnologia e nell'ingegneria si possa presto raggiungere un punto in cui i freni elettronici per mountain bike diventino una realtà. In conclusione, l'integrazione dell'elettronica nelle mountain bike sta portando la disciplina a livelli precedentemente inimmaginabili, migliorando sia l'esperienza del ciclista occasionale sia quella del professionista. Man mano che le innovazioni continuano a spostare i confini di ciò che è possibile, una cosa rimane chiara. L'elettronica, sempre più connessa nelle mountain bike, porterà numerosi vantaggi per noi ciclisti, consentendoci di ottimizzare le prestazioni, migliorare l'esperienza di guida e garantire una manutenzione più efficace delle biciclette. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie.